Stamattina ti sono ammazzato, tu bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Long live the heroes of the international brigades! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS